Musica Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco, puntata speciale dedicata all'incontro che si sta tenendo in Vaticano, aggiunto ormai il secondo giorno, la protezione dei minori nella Chiesa. Seguiremo e racconteremo la giornata di oggi insieme a Gianfranco Sviderkoski, giornalista, scrittore, che racconta la Chiesa sin dai tempi del Concilio Vaticano e con il direttore del sismografo Luis Badiglia. Benvenuti. Luis, uno degli obiettivi di questo incontro è anche quello della trasparenza, che è una delle parole chiave, sarà affrontato in particolare nella giornata di domani. Si sta riuscendo a comunicare il Papa, i Vescovi, riuniti in questo incontro, stanno riuscendo a comunicare, secondo te che sei osservatore di tutti i media internazionali, oltre a quelli italiani, stanno riuscendo a comunicare il lavoro, lo sforzo che stanno facendo in questi giorni? Qual è il risponso dei giornali? Sì, la risposta alla domanda è sì. Io per la prima volta, dopo tanti anni che seguo le vicende della Chiesa nei media internazionali, vedo da tre, quattro giorni un continuo di articoli, commenti, analisi, abbastanza soddisfatti, per certi versi anche entusiasti, del come questo evento è stato organizzato e come si sta sviluppando. Diverso è che ci siano critiche per quanto riguarda il fenomeno stesso della pedofilia, come la Chiesa lo ha trattato da quando è comparso qualche anno fa, qualche decennio fa. Ne discutiremo. Però, se tu mi domandi come la stampa sta valutando l'evento, il fatto che siano incontrati lì ieri, oggi e domani e dopo domani, le cose che si stanno dicendo, le dirette televisive, alcune delle quali hai fatto te, in questo programma, cosa assolutamente inedita, in passato questo non si sapeva. Quindi, domani il tema centrale dell'incontro è la trasparenza. E credo che quelli che stanno partecipando hanno i titoli e il merito di poter parlare domani di trasparenza. Certo, andando all'altra trasparenza, perché qui dobbiamo distinguere la trasparenza della Chiesa nel comunicare alla sua opinione pubblica e al mondo intero quello che sta facendo nel bene e nel male per abbattere questa tragedia, questo orrore della pedofilia clericale, è quello che è l'altra trasparenza che riguarda i delitti, i crimini della pedofilia. Perché la pedofilia è stata possibile, è possibile e sarà sempre possibile, perché la pedofilia non è che sarà eradicata dalla Chiesa della società per via di questo incontro, perché alla base della pedofilia il meccanismo è il segreto. Tu puoi abusare di un bambino, di un adolescente, di un ragazzo, perché lo fai in segreto. Se tu riesci dall'esterno o la persona stessa, la vittima, a sgretolare il segreto, salta tutto. Quindi la trasparenza è fondamentale, direi è essenziale, è la vera medicina contro la pedofilia. E un elemento essenziale di questa trasparenza è il rendere conto. Nessuno può decidere, nemmeno il capo di una Chiesa locale da solo, deve rendere conto. Questo è stato un po' il cuore alla comunità, questo è stato il cuore degli interventi di questa mattina fatti dal Cardinale Arcivesco di Bombay e da quello di Chicago. Sentiamo la sintesi dei lavori del mattino fatta da Cristiana Caricato. A accountability non esiste un unico termine italiano per spiegare il tema della seconda giornata di lavoro in Vaticano sulla tutela dei minori. Rendere conto la traduzione che più si avvicina alla necessità di guardare in faccia la crisi generata dagli scandali pedofilia. Nel summit sugli abusi viene a galla tutta la complessità della materia e mentre l'attenzione mediatica si sposta dalle vittime a procedure enorme da applicare nei casi di crisi, i 190 partecipanti al vertice affrontano i nodi della collegialità e della sinodalità. Prima relazione affidata al Cardinale Gracias che ammette non esistono soluzioni facili a lungo cammino, zeppo di errori, che ha portato la Chiesa a questo punto. Ma l'unica via percorribile è quella di un approccio collegiale dove la correzione fraterna sia un'opportunità e non un'ingerenza e dove la vulnerabilità del pastore non sia nascosta ma ammessa. L'imperativo è ridare giustizia a coloro che sono stati violati e creare una rete di relazioni tra vescovi, chiese locali e curia romana che porti al discernimento pratico e alla guarigione. Un percorso che i vescovi devono fare insieme a tutto il popolo di Dio in una prospettiva sinodale. Il Cardinale Supic, arcivescovo di Chicago, chiede che la Chiesa recuperi la pietà e la tenerezza di una madre spezzata dal dolore del proprio figlio, avvolgente e consolante. Sul piano delle riforme strutturali per affrontare la questione abusi indica quattro principi sinodali, orientamenti che devono plasmare ogni approccio alla tutela dei minori. Innanzitutto l'ascolto totale e radicale delle vittime che accolga il confronto e la condanna per i fallimenti passati, il coinvolgimento dei laici e in particolare delle famiglie nella prevenzione, la comunicazione reciproca per evitare situazioni di isolamento e l'accompagnamento compassionevole di chi ha sofferto ma anche della comunità ecclesiale segnata dagli scandali. Infine Supic afferma la necessità di meccanismi di denuncia trasparenti. La concretezza rimane l'esigenza più urgente. Insomma, trasparenza, concretezza, coinvolgimento dei laici, c'è una visione di una Chiesa che è comunità, questo mi sembra che sia emerso questa mattina, e come comunità deve darsi reciprocamente conto e quindi deve essere trasparente, deve essere in comunione. Questa è una delle medicine per sconfiggere nella Chiesa, e poi l'ambizione più grande, come diceva Luis, nel mondo, la piaga degli abusi sui minori e quella in particolare della pedofilia. Di questi temi, tra l'altro, arrivando, mi pare, un po' anche alle stesse conclusioni, ti sei occupato del tuo ultimo libro, Chiesa, liberati dal male, lo scandalo di un credente, dovremmo avere la copertina, chiedo alla regia di farla vedere, lo scandalo di un credente, eccolo qua, di fronte alla pedofilia. Sicuramente forse, mi è venuto in mente, non so perché, la Chiesa del postconcilio, dopo il 68 con i problemi che la Chiesa aveva subito, che vi ricordo una frase del cardinale Martini, Parigi, che disse, sì sì, ma la Chiesa è l'unica istituzione, l'unica organizzazione, fra virgolette, del mondo, che ha fatto il suo concilio, mentre tutti gli altri la rivoluzione aveva preso, a livello di qualsiasi forma di autorità. Per cui io penso che quello che si sta facendo adesso, si sta facendo, e finalmente collettivamente, è una risposta collettiva, non come il primo è stato, che ogni vescovo faceva per conto suo, faceva o faceva o non faceva, o nascondeva, o insabbiava. Questo è stato grave. E questa è appunto una mancanza, forse, di un'applicazione della collegialità e di quella sinodalità di cui parla sempre Francesca. Però questo esempio che sta dando la Chiesa è un esempio che può anche, in qualche modo, contagiare la società. Allora spesso si dimentica che il problema della pedofilia è un problema per oltre l'80% che tocca l'ambito familiare, poi quello anche scolastico, palestri, sportivi. E tutto questo, chi lo raggiunge? Un titolo di giornale, di tanto in tanto, come l'altro giorno, del militare che violentava la figlia perché era separato dalla madre. Cioè, chi arriva a dare un minimo di educazione e di informazione? Io penso che sia importante quello che la Chiesa sta dicendo in questo momento collettivamente, tutti i vescovi insieme, con il Papa e quindi con la responsabilità di ogni vescovo che tornando in diocesi, ogni cavovescovo, poi i singoli episcopati che cambiano mentalità, cambiano atteggiamento, che possa anche questo poi dopo avere un grande effetto. Perché, diciamo ipotesi, la Chiesa riuscisse, forse difficilmente, a risolvere, come diceva Lewis, il problema della pedofilia, però la pedofilia rimarrà nella società. E quindi questo credo che sia un grande aiuto che la Chiesa sta dando alla società. In qualche modo è vero anche il contrario, cioè nel senso che questo cambio di mentalità è venuto fuori dalle accuse che sono state fatte alla Chiesa. Se la Chiesa oggi era inimmaginabile, fino a un po' di tempo fa, un incontro del genere in Vaticano. E questo incontro, credo, vada guardato con speranza e non con occhi solo dello scandalo, Lewis. Secondo me l'incontro resterà come uno dei fatti più rilevanti di questo pontificato, nonché della storia della Chiesa in questo secolo. Perché facendo questo incontro alla Chiesa, e prendo in prestito una frase di una dichiarazione dei Vescovi statunitensi, riconosce il falimento della sua leadership per quanto riguarda la protezione. Dice anche il Papa delle due lettere, anche i cileni, il falimento della gerarchia. Esatto. E senza dirlo, senza dichiararlo, prende atto di aver falito come leadership religiosa nell'ambito della protezione dei minori, quindi nell'ambito della pedofilia clericale. Allora, secondo me, questo che sta portando avanti il Papa e con lui gli episcopati, perché questa è anche un'altra cosa da sottolineare molto importante che in un qualche modo gli ha anticipato il mio caro amico qua, e cioè la presenza delle conferenze episcopali, che era la parte della catena debole in questa vicenda. La pedofilia, la prima denuncia, vado alla tua domanda e poi chiudo, praticamente dal punto di vista storico incomincia nel 1983. La prima denuncia pubblica di un fatto pedofilo è del 1983 in Alaska. Poi ci sono stati altri, sempre in Alaska, poi negli Stati Uniti, via dicendo. E quindi già dal primo momento la pedofilia salta fuori come una denuncia dalla stampa. Ecco perché il Papa per ben due volte ha ringraziato il ruolo della stampa e lo ha fatto con coraggio, con generosità e con lungimiranza. Perché solo la denuncia, come dicevo prima, può scardinare il secreto dell'atto pedofilo. L'atto pedofilo non è mai pubblico, è sempre ultra-secreto. E finché questa segretessa si può mantenere anche con l'intimidazione, con la minaccia della vittima, tutto a posto. Se tu fai saltare quello... Allora, la Chiesa, secondo me, con questo evento di oggi e con quello che succederà dopo, perché qui non finisce, qui cominciano molte cose. È da 15 anni che la Chiesa sta lottando, perfezionando il sistema, il metodo e via dicendo. Questo è un grande salto di qualità in avanti, quello di questi giorni. Ma vedremo che cosa succederà dopo. Quello che la Chiesa sta facendo in questo momento è consolidare, secondo me, l'elemento della denuncia. E oggi nelle relazioni è stato detto più di una volta che non si deve avere paura di denunciare, non la deve avere il vescovo, il fratello sacerdote, chiunque. Perché a livello collettivo questo è il meccanismo che è fallito, che non ha funzionato. Ma aggiorniamo un po' il calendario dei lavori e della giornata e andiamo in Vaticano da Cristiana Caricato. Ciao Cristiana. Sì, eccoci nuovamente in diretta dalla piazza del Sant'Uffizio. Con me c'è Andrea Tornielli, direttore editoriale di Vatican Media. Naturalmente anche oggi è stata una giornata estremamente intensa, come abbiamo visto, con un briefing particolarmente affollato anche per la presenza di ben due cardinali americani che in qualche modo a diverso titolo sono stati protagonisti negli ultimi dieci anni proprio della lotta agli abusi e naturalmente c'era ancora Monsignor Cicluna che di fatto è diventato, come possiamo dire, il testimonial di questo vertice. Allora Andrea, che cosa possiamo dire su questa giornata? In che direzione si sta andando? A me la cosa che ha più colpito innanzitutto è il clima di fraternità e di vera collaborazione. Dunque si capisce che stiamo partecipando a un evento di chiesa. I vescovi si confrontano fra di loro in maniera molto libera ma in un clima molto fraterno. Questa può sembrare un'osservazione banale. Non lo è affatto perché è la prima volta in fondo che un tema così grave come quello degli abusi viene trattato in maniera globale da parte di vescovi appartenenti a tutto il mondo, a tutti i paesi del mondo che affrontano il tema con le loro diverse sensibilità, con le loro diverse culture. Oggi il grande tema di questa giornata è quello della contabilità cioè del dover rendere conto anche da parte dei vescovi e in questo senso abbiamo visto come le due relazioni del Cardinale Grazias e del Cardinale Sciupic siano andate in un senso molto forte e anche che chieda alla chiesa di fare un passo ulteriore per mettere in pratica sicuramente meglio di quanto è avvenuto finora ciò che il Papa aveva chiesto con il suo motu proprio come una madre amorevole. Anche al briefing di questa mattina le domande soprattutto da parte americana si sono concentrate su questioni estremamente tecniche c'è una grande consapevolezza di quello che c'è in gioco ma anche la necessità di risposte che siano puntuali ad interrogativi come quello sulla denuncia dei casi della negligenza nei casi di negligenza dei vescovi c'è quindi un'attenzione mediatica che va anche nel singolo particolare normativo. Sì e questo bisogna dire che in qualche modo è naturale perché certamente il Papa ha spiegato molto bene che vuole che da questo summit a questo incontro ogni vescovo torni a casa sapendo esattamente che cosa deve fare e che cosa non deve fare di fronte a casi di questo genere. Dunque è chiaro che si scende anche nel particolare e anche nel particolare tecnico però questo particolare tecnico quello delle norme, quelle delle leggi quello delle best practices è inquadrato in una cornice che è una cornice evangelica che è una cornice ecclesiale per non dimenticare mai ciò che l'abuso è nel senso che non si potrà mai ridurre la risposta soltanto a una risposta tecnica che pure è necessaria. Questo mi ha colpito molto perché la cosa più importante almeno da queste due giornate è certamente quella di un ascolto sincero vero e reale della sofferenza di chi ha vissuto gli abusi. Non si finisce mai di imparare di quale abisso abominevole rappresentino gli abusi nella Chiesa e dunque non c'è neanche in fondo soluzione tecnica che possa riempire questa voragine, colmare questo abisso ed è qui che interviene una visione che è molto chiara perché queste giornate iniziano con la preghiera si concludono con la preghiera domani ci sarà una liturgia penitenziale domenica una messa ed è che comunque la risposta al male è una domanda che noi dobbiamo fare a qualcun altro. Ecco, tra l'altro oggi proprio il Cardinale O'Malley che è forse il vescovo americano che è stato più vicino anche alle vittime non solo americane ma anche nel mondo pensiamo alla crisi cilena ecco, il Cardinale O'Malley ha detto questa è la questione più urgente nell'agenda ecclesiale oggi molti non sarebbero d'accordo però lo ha detto non soltanto perché c'è da fare giustizia per questi peccati e soprattutto per questi reati per questi crimini ma lo ha detto secondo me perché c'è la coscienza e anche qui effettivamente si è avvertita negli interventi dei vescovi del fatto di quale controtestimonianza evangelica rappresentino gli abusi proprio per la testimonianza quotidiana della Chiesa e il fatto che ci sia un'opinione pubblica che chiede conto alla Chiesa che invita la Chiesa a dare risposte credibili significa che da tante parti anche da parte del mondo laico c'è una grande stima in fondo nei confronti della Chiesa cioè si chiede alla Chiesa essere fedele veramente al messaggio del Vangelo e anche questo è positivo e colpisce tra l'altro bisogna dare una notizia oggi è stato riferito che anche l'alta rappresentante dell'UNICEF delle Nazioni Unite per la lotta la violenza sui bambini segue in maniera molto costante i lavori al vertice sulla tutela dei minori questo è sicuramente un segnale della grande attenzione anche nella comunità internazionale per un evento che lo abbiamo detto e senza precedenti non solo nella Chiesa ma anche nel mondo Andrea ancora un'altra domanda questo pomeriggio la prima relazione al femminile la visione lo sguardo delle donne su un problema che viene percepito molto al maschile questa mattina sia il cardinal Supic che Grazias hanno insistito sulla necessità di coinvolgere tutto il popolo di Dio in particolare il luogo sacro della famiglia e in particolare le donne ricordiamo che una madre amorevole fa riferimento appunto alla tenerezza della madre secondo te che cosa altro ci dobbiamo aspettare? il Papa ha spiegato già più volte che è fondamentale il genio femminile per la Chiesa e nella Chiesa e che lo sguardo femminile è appunto lo sguardo materno lo sguardo di una madre questo è lo sguardo che soltanto una donna può avere ed è per questo che la presenza delle donne ce ne sono già presenti sono relatrici di alcuni gruppi non è la prima volta che sente la voce di una donna anche se questa è la prima volta che si sente pubblicamente perché la relazione è stata divulgata però è fondamentale anche perché bisogna capire che a questo problema il Vescovo i vertici le gerarchie non possono rispondere da sole il Vescovo non può rispondere da solo a questo dramma deve essere aiutato deve farsi aiutare e in questo senso l'occhio dei laici l'aiuto degli esperti ma anche lo sguardo materno e lo sguardo femminile sono fondamentali grazie ad Andrea Tornielli che lasciamo andare ritornare nell'aula nuova del Sinono dove continuano i lavori linea a te Gennaro grazie Cristiana ci sentiremo più tardi per continuare insieme questo racconto adesso invece facciamo una piccolissima pausa tra poco nuovo in diretta per raccontarvi il secondo giorno dell'incontro sulla protezione nei minori nella Chiesa sei le relazioni che sono state tenute nell'ambito dei primi due giorni di lavoro vi abbiamo già raccontato le prime quelle di ieri le prime due del mattino dopo cinque cardinali oggi pomeriggio ha parlato una donna la dottoressa Ghisoni sottosegretario del di Castero laici famiglia e vita comunio agire insieme questo il tema della relazione proviamo a ascoltare qualche brano di quello che ha detto la dottoressa Ghisoni non di rado io avverto insofferenza nella Chiesa per l'attenzione che si dedica alla questione degli abusi sessuali sui minori un sacerdote qualche giorno fa ha esclamato ancora si continua a parlare di abusi è esagerata l'attenzione che la Chiesa riserva a questo tema ma anche una signora praticante in parrocchia mi ha detto candidamente meglio non parlare di questi argomenti perché altrimenti crescerà sfiducia verso la Chiesa parlarne offusca tutto il bene che si fa nelle parrocchie se la vedano il Papa i Vescovi e i preti tra loro il parlarne o non piuttosto gli abusi stessi di coscienza di potere sessuali offuscano il bene che viviamo nelle parrocchie a queste persone e prima ancora a me stessa dico che prendere coscienza del fenomeno e rendere conto della propria responsabilità non è una fissazione non è un'azione inquisitoria accessoria per soddisfare amere esigenze sociali bensì un'esigenza scaturente dalla natura stessa della Chiesa come mistero di comunione fondato nella Trinità come popolo di Dio in cammino che non evita ma affronta con sempre rinnovata consapevolezza comunionale anche le sfide legate agli abusi occorsi al suo interno a danno dei più piccoli minando e spaccando questa comunione un vescovo non può pensare che le questioni riguardanti la Chiesa possono da lui essere risolte agendo da solo oppure esclusivamente tra pari secondo il ritornello solo un vescovo può sapere cosa è bene per i vescovi oppure in maniera analoga solo un prete sa cosa sia bene per i preti solo un laico per i laici sono una donna per le donne e così via la logica della comunione non sopporta una accusa e una difesa ma un concorrere al bene di tutti anche l'accountability pertanto è una forma oggi ancora più necessaria di questa logica di comunione mi colpisce questo passaggio del discorso perché mi pare che anche noi laici certe volte ci facciamo prendere più dalla logica di corporazione che dalla logica di comunione c'è un istinto di protezione di qualcosa che ci sta a cuore la Chiesa e che però poi è un istinto in qualche modo malato che invece di proteggere danneggia danneggia i più piccoli che sono la parte più importante della Chiesa e danneggia la Chiesa stessa voglio riprendere appunto dalla dottoressa Vittorio due cose uno al volo quando faceva riferimento delle conseguenze che ci sono sul popolo di Dio e non se ne è tenuto abbastanza conto perché talmente è durato il periodo di silenzio anche della Chiesa ufficiale tranne le uscite del papo o di qualche vescovo per cui la gente ha preso tutto questo in maniera negativa per cui bisogna tenere conto che oggi ci sono dei parroci che provano un senso di frustrazione o di depressione quando gli si avvicinano i genitori e gli danno i bambini per la prima comunione o per l'oratorio li guardano con sospetto c'è il mio ex viceparroco sulla via Framiglia che adesso non abbraccia più i bambini perché pensa chissà che cosa quindi tener conto di queste perché troppo a lungo è andata avanti ma anche le stesse cose sul popolo di Dio laici nel senso che ci sono di laici che ha detto che provano vergogna per quello che è successo e qualcuno si è allontanato anche dalla Chiesa il secondo aspetto della comunione non ha detto la parola criticalismo ma c'era sotto perché un vescovo pensa di pensare a lui per conto suo il prete il parroco per conto suo ed è questo che ha portato anche gli abusi sessuali quella che è stata una separazione fra il sacerdozio sacramentale il prete e il sacerdozio comune che è di tutti per cui il sacro del prete soltanto però quando fa il prete non la sua persona ha in qualche modo abolito o perlomeno inglobato la santità a cui tutti possono andare quindi è di ritrovare questo nuovo rapporto che l'aveva definito chiaramente il concilio con quel rivoluzionario secondo capitolo della Lumen Gentium quando aveva fatto precedere il popolo di Dio la gerarchia tutto questo non è mai stato realmente eseguito forse l'ha realizzato per la prima volta interamente il Papa Francesco quando si è affacciato a Balcone la prima volta e ha fatto esattamente ha realizzato la Lumen Gentium con i suoi gesti quando si è fatto benedire appunto questo e allora c'è il problema che forse il prete o il vescovo hanno pensato di risolvere i propri problemi da soli quando invece il problema è necessario farlo in comunione e che i laici possano portare un grande aiuto perché all'origine di tutto questo bisogna dirlo c'è il clericalismo il potere è chiuso in se stesso e non è il clericalismo di una volta che era in qualche modo difendeva anche la Chiesa nei periodi tormentati dalla storia che fossero i chierici a dominare in qualche modo è stato positivo anche nelle piccole parrocchie e tutto ma adesso il clericalismo è diventato proprio quasi una via di potere di carriera per cui c'è una degenerazione dell'autorità questo vale per il prete ma vale anche per la Chiesa che ha separato i due livelli del popolo di Dio ed è questo appunto che vorreste accennare anche la dottoressa e questo contro questo mi pare il Papa abbia dato un colpo forte quando ha scritto la lettera al popolo di Dio per coinvolgere tutti e non appunto soltanto i preti i vescovi e soltanto quelli che avevano anche direttamente a che fare con i responsabili degli atti contro i minori proprio per prendere coscienza tutti insieme e per impegnarci tutti insieme contro gli abusi sui minori è vero è vero è forse uno degli effetti immediati poi a lunga scadenza per così dire secondario fra virgolette di questa lotta sacrosanta contro la pedofilia clericale o da parte dei membri del clero sarà quello di dare alla Chiesa come comunità un diverso baricentro come ricordava poc'anzi lui e cioè non più quella Chiesa concepita e che il Concilio aveva praticamente condannato dando un modello diverso basata sulla base dei componenti la componente ecclesiale la componente clericale e tutti questi gruppi all'interno di modo tale che la Chiesa in qualche modo è una sorta sommatoria di rivindicazione di diversi gruppi che si compongono al loro interno come si ricordava nella relazione della signora Ghisoni no è il popolo di Dio e quindi la lotta contro il clericalismo è proprio la lotta contro chi ha concepito la Chiesa l'ha strutturata l'ha organizzata l'ha portata avanti come un insieme di componenti che negoziano fra loro un rapporto di forza particolare non è così il Papa già dall'inizio del suo pontificato in diversi documenti in particolare in quello che tu hai ricordato ha detto sempre questa lotta la si vince come comunità tutti insieme dove ognuno ha un suo ruolo il vescovo il prete la religiosa le donne tutti senza e qui vorrei chiudere però mi sembra importante per quanto riguarda soprattutto quello che è stato detto prima in rapporto alle donne senza mistificare non si deve mistificare già abbiamo fatto questo errore non c'è nessuno che cosa è mistificare però in 30 secondi in 30 secondi non c'è un concetto del vescovo del laico della donna che possa essere presentato come risolutivo certo sono tutti insieme tutti insieme facciamo una piccola pausa poi torneremo tutti insieme tra poco di nuovo in diretta ma restiamo solo un attimo in studio perché andiamo subito in piazza San Pietro da Cristiana Caricato per farci ancora aggiornare su questa seconda giornata di lavoro dell'incontro sui la protezione dei minori nella chiesa Cristiana sì eccoci nuovamente in collegamento ci siamo spostati nella zona di piazza San Pietro con me c'è Alan Aldrin dell'IWTN uno degli osservatori americani al summit che si svolge in questo momento in Vaticano abbiamo sentito le tre relazioni di oggi ma soprattutto c'è stato un briefing dove la presenza americana è stata molto sottolineata non solo dal cardinale non male e dal cardinale Supic ma sicuramente anche dalla quantità enorme di giornalisti americani che hanno fatto delle domande molto tecniche molto precise abbiamo detto che impressione si ha in America di questo summit visto che sicuramente è potremmo dire l'osservatorio più importante più sensibile a questo tipo di problemi Cristiana c'è un'attesa enorme dei fedeli e anche del clero in Stati Uniti per misure concrete quando il Papa ha cominciato tutto dicendo che voleva concretezza da tutti quello in Stati Uniti adesso viene colto bene quello che non si può fare a questo punto è che questo cade nel vuoto che non ci siano delle misure veramente concrete che vengono dopo di questo incontro oggi si è parlato soprattutto di revisione del segreto pontificio una revisione anche delle norme che riguardano la negligenza di pastori che in qualche modo non denunciano subito non prendono provvedimenti subito nei casi di abuso si è parlato naturalmente anche del caso McCarrick che è l'ultimo grande scandalo sessuale che in qualche modo ha coinvolto tutta la Chiesa americana e ci sono dei pastori che devono mettere la faccia sul fatto che questo abusatore seriale pedofilo anche ha potuto agire indisturbatamente per moltissimo tempo negli Stati Uniti quindi anche nel paese dove da anni si lavora per eliminare gli abusi comunque nelle gerarchie c'era un potremmo dire un bubone che poi è esploso qualcosa di marcio come è stato possibile secondo te? quella è la domanda dei tre giornalisti che hanno chiesto a Supic e a Omali oggi le domande come può essere che questo è successo e come potete adesso dirci come McCarrick in 2002 ci ha detto lo stesso che la Chiesa americana sta affrontando la situazione quando lui era l'abusatore come possiamo credere in quello che dite che adesso ci sarà l'eradicazione un sforzo enorme per eradicare il problema dell'abuso però anche per proteggere i minori ecco in molti pensano che tutto questo non sarà mai sufficiente per placare potremmo dire l'indignazione la rabbia anche il disgusto di alcuni esponenti della Chiesa americana secondo te che altro può fare il Papa visto che ha convocato tutte le conferenze episcopali che ha creato potremmo dire un atto senza precedenti ha avviato questo processo ha fatto un incontro che è un messaggio in sé che la Chiesa vuole fare e sta facendo qualcosa di grosso poi quello che ha proposto il Cardinal Supic durante il suo intervento questa mattina che era un procedimento che è molto chiaro era una cosa che si doveva parlare nella conferenza episcopale americana a novembre perché è stato bloccato da una richiesta dalla Santa Sede per non andare a votaggio su un procedimento in particolare quindi questo è stato diciamo riproposto oggi come possibilità e lì fare quel discorso davanti al Papa le dà un'autorità anche a quella possibilità anche se lui ha detto che è un quadro per una discussione quindi sicuramente c'è molto lavoro da fare però possiamo dire che questo non è un vertice americano sugli abusi? No si è detto tantissime volte che il mondo è composto di diverse realtà questo è un incontro di tutte le conferenze episcopali nel mondo per vedere anche nella realtà che sono molto diversi da un posto ad un altro però si può dire anche che gli Stati Uniti ha un'esperienza molto profonda su questo argomento e anche una conoscenza che può condividere con tantissimi altri e anche le risorse che ha un paese come gli Stati Uniti sono abbastanza sviluppate in paragone con altri posti però che può essere anche una spunta per condivisione con gli altri no? Ecco sicuramente è quindi un'esperienza che può essere condivisa nello spirito della sinodalità e della collegialità come oggi è stato più volte ricordato ringraziamo Alan Oldrain se non hai altre domande Gennaro ti restituisco la linea grazie Cristiana non ho altre domande anche perché non abbiamo più tempo è l'ora del Rosario che sta per cominciare in diretta alla Lourdes ringrazio Luiz e Gianfranco e vi do appuntamento a domani mattina perché seguiremo tutto tutto quello che ci sarà di visibile dall'incontro sulla protezione dei minori nella Chiesa a partire dalle 8.50 quindi ci vediamo domattina alle 8.50 secondo appuntamento di domani già alle 16 nel pomeriggio a domani Rosario grazie a tutti chiedo allo Spirito Santo di sostenerci in questi giorni e di aiutarci a trasformare questo male in un'opportunità di consapevolezza e di purificazione la Vergine Maria ci illumina per cercare di curare le gravi ferite che lo scandalo della pedofilia ha causato sia nei piccoli sia nei credenti grazie a tutti